Oggi farinata con zucchine In una ciotola uniamo farina di ceci e acqua Mescoliamo con una frusta e aggiungiamo il sale Facciamo riposare per qualche ora Prendiamo la grattugia da fuori larghi e grattugiamo le zucchine Le lasciamo scolare su un colino Le saliamo così perderanno l'acqua di vegetazione Io le lascio scolare per tutto il tempo di riposo dell'impasto Le uniamo all'impasto e mescoliamo Versiamo in una teglia antiaderente e pepe Un bel giro d'olio e dritto in forno Ed eccola qua Con un sottile strato di crosticina è perfetta per una cena tra amici o per un aperitivo